Cari ragazzi siamo arrivati alla fine di questo bellissimo display da 36 bustine quindi adesso ci andiamo a bustare le ultime 12 ma se ti sei persi i primi due video allora prima cosa devi pagare meglio quindi ti devi iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like assolutamente anche se non hai già visto il video, non mi interessa quindi tu ti metti, ti iscrivi, metti il like poi dopo per vedere lo sponsor del video che sono i ragazzi di www.pikapika.it quindi mi raccomando andare a vedere i ragazzi di PikaPika dove avete il 5% di sconto inserendo il codice sconto BARBAD5 al checkout quindi non solo vi dovete iscrivervi al mio canale dovete andare a vedere i ragazzi di PikaPika che sono lo sponsor del video che hanno messo a disposizione questo bellissimo display e anche tutt'altro che poi vedrete successivamente in altri video dove mi raccomando c'è sempre il codice sconto BARBAD5 quindi mi raccomando quando volete fare acquisti per i vostri CCG andate sulla loro pagina e acquistate Pokémon, Magic, Lorcan, One Piece tutto quello che vi pare, tanto ci hanno tutto ma detto questo, ora andiamoci a sbussare le restanti 12 bustine che cosa aspettiamo? Andiamoci a sbustare subito mi raccomando, mettiti prima questo e poi dopo ti vai a recuperare gli altri perché devi pagare pegno quindi devi vedere prima questo video e poi devi vedere gli altri due e ti iscrivi capito? Ti tengo d'occhio eh vabbè ragazzi, senza che stiamo a perdere tempo eccole qua, sono le 12 bustine ora le apriamo all'americana sì, ti piacerebbe che le apriamo all'americana eh no, te le devi subire uno a uno mettiamo le queste qua prendiamo la prima bustina mettiamole qua sopra adottiamo il metodo dell'altra volta e facciamo uno di che a me è piaciuto tanto e andiamo avanti con lo spacchettamento di questo bellissimo display vai su, prima bustina quindi, questa è un po' più dura apriamo, via, questo via che non ci serve codicino qua, patta avanti e giriamo quindi, Energy Acqua Pulpix Focchi Eevee poi Pantum Sushi perché tu sei sushi Melanurca non me lo potrà dare nessuno prima reverse seconda reverse dietro abbiamo la nostra allora 2T12 ragazzi 2T12 e per il pacchettino 2T12 dove questo lo lanciamo questo mettiamo qua poi facciamo questo guarda, guarda, guarda già arrivano danneggiate le carte guarda maledetti andiamo a vedere naturalmente probabilmente sarà una carta importante perché mica posso avere la fortuna di sbussare qualcosa di interessante che non sia danneggiato o decentrato o qualche altra cosa oddio però se si trova quello con l'errore di stampa non è che mi dispiace quindi Sunflora reverse poi abbiamo Sandygast reverse e dietro ah no, meno male dai una rara oro normale 3T12 quindi andiamo avanti con questa bellissima selezione del terzo video del display quindi giriamo e rigiriamo poi andiamo avanti vediamo cosa ne tiriamo fuori ecco non l'avevo ancora detto Energia Slungham Swirlix Tabult Melanore che ha Clashion bellissimo ancora lo dovevo trovare Sacco Ferrio Sandlash prima reverse io devo contare perché se no a finire che poi me spoilerò ecco vedi me stavo spoilerando qualche altra cosa questo secondo me è un'altra trainer no non è un'altra trainer e che dite votiamo in sacco 3 2 1 e la Timur bellissimo e non questo atteggiamento per te fa il carpentiere dietro che cosa abbiamo dietro abbiamo la nostra invece rara oro di Arcanine primo pullettino 4 di 12 quindi non male vediamo un poco se siamo ancora fortunati con quest'altre bustine e vediamo cosa ne tiriamo fuori vedete l'ho detto e uscite pure precedentemente energia Talambud Melanorca poi Litwick Crefable Sushi Farigrafio ho perso il conto ragazzi come al solito ho perso il conto quindi adesso sarà la reverse bene c'è in sì dietro abbiamo la nostra seconda reverse del cugino di Palafin e dietro abbiamo il nostro Frostlass Rarolo 5 di 12 5 di 12 su ragazzi 5 di 12 quindi andiamo avanti giriamo questa senza averci troppo inchiaccere su energia poi abbiamo questo fiorellino questa candela mezza sciolta un cuccioletto poi castello di sabbia poi Luciano 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 poi non saprei che cosa Darmanitan Rubra poi abbiamo la nostra prima reverse avevo perso di nuovo il conto ma solito poi abbiamo la nostra seconda reverse di Clefau e dietro e dietro e niente questo sabbia strarolo già l'abbiamo trovato basta basta vogliamo trovare Green Ninja 6 di 12 6 di 12 cari ragazzi 6 di 12 quindi andiamo avanti su forza forza che dobbiamo fare presto assolutamente e trovare qualcosa di veramente interessante quindi energia cucciolotto castello di sabbia timbur ecco l'unico pull di questo video fino adesso poi torre di interferenza Clashon bellissimo dietro ci sta la nostra reverse no Melanurca quindi dietro ci sta la nostra reverse esatto Fortunelmo reverse poi dietro abbiamo una nostra seconda reverse di Pulpix e dietro abbiamo un nostro piccolo ma comunque gradito pullettino quindi 3 2 1 spine per ex e male non fa male non fa 7 di 12 quindi 7 di 12 diciamo cosa ne tiriamo fuori qua 7 di 12 prendiamo questo così questo così già escono danneggiate le carte già escono danneggiate ma no speriamo che non sia niente di interessante ragazzi veramente speriamo perché altrimenti la fortuna mi assiste proprio in questo caso Cigno Bellybolt che continua a dire che è uno dei miei pokemon preferiti Snorlax poi andiamo avanti con la prima reverse che ti abbiamo trovato nel primo video poi abbiamo la seconda reverse e dietro abbiamo la nostra rara olo io l'abbiamo trovata in G3 se lo sbaglio una cosa del genere 8 di 12 signori e signori 8 di 12 quindi avanti tutta andiamo avanti sbustiamo come se non ci fossi un domani energy agrolit polivag poi ipom poi lui poi kilowatter poi sandlash poi luciano la volta su luciano e la prima reverse e dietro abbiamo la nostra seconda reverse di timbore e dietro abbiamo la nostra rara olo 9 di 12 9 di 12 signori e signori 9 di 12 codicino questo qua poi giriamo e pigliamo subito energia ipom darumaga cordfish gruchi soccorso di surian prima volta che la vediamo le afeon bellissimo questo le afeon è veramente bello questo le afeon le afeon l'abbiamo già trovato un attimo mi è caduto tutto il mucchio poi prima reverse seconda reverse e dietro abbiamo la nostra rara oro di acqua e creste che ce ne facciamo niente 10 di 12 10 di 12 che dici ti vuoi palesare o non ti vuoi palesare proprio e se mi fai costringere poi a comprarti dico io ma è normale che ti devo comprare assolutamente no quindi perché non ti mostri eh andiamo avanti con corpfish gruchi l'octal cugino di palafin coso che non so che nome sei le afeon bellissimo cigno poi abbiamo l'octal e dietro abbiamo golden reverse e dietro abbiamo la nostra infernip rara oro 11 di 12 signore e signori 11 di 12 quindi questo va via questo va qua questo si gira e patapim patapam energia elio padello cugino poi responsabile quello che abbiamo trovato prima chimirilabum poi abbiamo ventilatore portatile che fra poco ci servirà morpeco poi melanurka reverse enaurus reverse e dietro vabbè 3 2 1 abbiamo trovato prima e giustamente lo troviamo anche in questa versione ma che ce ne facciamo niente ultima bussina 12 di 12 ragazzi 12 di 12 siamo arrivati alla fine quindi che cosa ne diciamo sbustiamocelo e che dio ce la mandi buona via codicino questa mandiamo avanti e su vediamo se ma pure queste sono tutte macinate qua sotto ve le vorrei far vedere meglio ma non si vede ma sono tutte ondurate queste carte ma non so che cosa hanno passato ultimamente questi di pokemon company che stampano un po' bruttini onestamente snorlax poi dopo morpeco ci dovrebbe essere la reverse e infatti c'è la prima reverse poi c'è la seconda reverse di monferno e dietro chiudiamo con foglia ferra raro oro allora per questa serie interminabile di spacchettamenti del display da 36 bustine e tutto abbiamo finito abbiamo preso un bel po' di pull comunque non si può dire che non siamo stati fortunati certo che il pull rate rispetto agli altri forse è leggermente un po' più basso va bene ma non ce lo facciamo andare bene comunque considerando che hanno abbassato i prezzi delle bustine detto questo non siamo stati fortunati per quanto riguarda l'apparizione di green ninja nelle nostre mani ma ci rifaremo assolutamente e che cosa dire altro naturalmente quello di iscrivervi al canale perché se non l'avete fatto prima siete delle brutte persone lasciate un like se non l'avete fatto prima siete delle brutte persone soprattutto un commento così almeno uno vi saluta almeno per far vedere che ci siete anche voi così a me uno può partecipare e soprattutto andate a vedere i ragazzi di piga piga il loro store mi raccomando il codice barba di 5 per poter avere 5% di sconto e noi ci vediamo in un altro video